ciao a tutti amici del canale di Arbe82 buon pomeriggio partiamo con una nuova recensione oggi ritorniamo a parlare dei robottoni degli anni 80 i nostri adorati robottoni che ci hanno accompagnato durante la nostra infanzia e oggi è il turno voglio far vedere un altro pezzo della mia collezione oggi è il turno del bellissimo jaykin magnetico robot eccolo qui ragazzi guardate che scatolone enorme questo è un prodotto uscito nel 2008 dalla compianta casa cms che ormai non esiste più bre 17 gacking come vedete qui ragazzi è la versione anime color perché la cms fece ben tre modelli di questo robot qui come vedete eccolo qui in primo piano il primo modello che ci fu era il robot con le parti gialle però fatte color oro vedete poi fece un altro modello che aveva spalle e cosce dorate però la parte centrale qui è la parte laterale della testa del robot di color giallo un ibrido diciamo e poi fece il più bello secondo me che è quello più azzeccato che è l'anime color che le parti gialle sono gialle non sono più dorate proprio come si vede nel cartone animato ecco qui ragazzi bel primo piano del nostro modello con il placer e mighty i due robot minori diciamo ecco 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 che poi vediamo qui cms che non c'è più vediamo un'altra mitica immagine il nostro jake in qui dietro vediamo diciamo la checklist delle armi che ci sono in questa confezione e qui vediamo l'agganciamento magnetico del robot eccolo qua la scatola è veramente enorme l'altro lato quest'altro è sopra ecco qui jake in breve 17 ed eccolo qui ragazzi questo è veramente una chicca del passato non perdiamo tempo adesso vediamo l'interno della confezione come si presenta all'interno della scatola troviamo questo bel polisterolone eccolo qui togliamo la copertura e vediamo un'occhiata veloce al suo interno come si presenta il robot con tutti gli accessori vedete il robot è tutto scomposto e ci sono tutte le varie armi poi escono anche questi qui che sono i tappini per coprire le viti una bella chicca anche questo poi c'è il blisterino eccolo qui con altre armi del robot è il mitico libretto per le istruzioni per far vedere il montaggio eccetera eccetera non perdiamo tempo adesso vediamo un po più le cose nel dettaglio allora ragazzi accessori tolto tolti dalla confezione e vediamo prima gli accessori dopo vediamo i tre robot perché non c'ho spazio e gli accessori sono veramente parecchi come vedete no allora partiamo da queste due qui questa sorta di lami rotante che che vanno agganciate vedete come ruotano benissimo eccolo qui vanno agganciate sopra le ruote di quel veicolo lì eccolo qui sono questo argento molto bello eccolo qui eccole qua molto molto carine poi passiamo vediamo un po' queste due parti qui che non sono altro che diciamo il prolungamento delle cosce del jake in che inserendo queste qui si possono inserire vedete qui il magnete si possono inserire queste ali qui sulle cosce eccolo qui con i magneti vedete troppo la luce è quella che è ragazzi non ci possa fare niente andiamo uno eccolo qui passiamo oltre poi ci sono i due vessilli taglienti del nostro robotone eccolo qui come al solito ne vediamo uno perché sono praticamente identici eccolo qui sono tutti in plastica si apre così sembra lo scudo di capitan america questo eccolo qua poi ci sono le stelline del placer eccolo qui il robot di takeru vediamo sempre uno sempre si focalizza eccolo qui vediamo le trivelle del mighty il robot di mia di mai mai come si chiama la ragazza ne vediamo poi vediamo la lama atomica che è questa sorta di raggio elettrico scagliate dai due robottini che diventano un'arma per il nostro jackie eccolo qui fatto molto bene acqua quest'altra parte sono diciamo di delle coperture delle mani sempre dei dei robot minori ecco qui si mettono al posto delle mani quando si uniscono tra di loro ecco qui poi vediamo questa spada qui tutta bella cromata eccolo qui e poi c'è il nunciaco del jackie con la catena una vera catena sempre cromata è fatta veramente bene poi ci sono questi due supporti qui che sembrano due stampelle quando il jackie in ha come arma i due robot sulle braccia darci che sono un po pesantini queste serve da supporto che è una cosa bruttissima queste cose qua e poi c'è questo super veicolo questa sorta di moto di macchina tre ruote qui volante che usa il jackie in nell'ultimo episodio non l'ho mai visto perché in italia sono usciti solamente 26 episodi su 39 l'ho letto su internet sinceramente eccolo qui si mette il nostro robot qui dentro alzando qui la cloche qui eccolo qui ed è veramente figo ed è tutto magnetico le ali si staccano così col magnete sono veramente potenti questi magneti devo dire la verità è molto carino come veicolo eccolo qua ma non perdiamo tempo adesso ragazzi vediamo il protagonista insieme ai suoi due amichetti eccomi ritornato amici ho messo tutto tutto un baradam ho posato tutto adesso focalizziamoci sui due robot minori il priser e il mighty il priser guidato da Takeru e il mighty dalla bellissima Mei faccio vedere prima la controparte maschile eccolo qui sono dei robot esteticamente molto strani devo dire la verità però nel complesso sono fatti sono fatti molto molto bene molto molto simili al cartone animato come vedete qui ci sono gli avambracci trasparenti proprio come si vede nell'anima ecco qui questa è la cabina di pilotaggio di Takeru ed eccolo qui come vedete ragazzi sono magneti eccolo qui sono tutti magneti sono molto 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 potenti questi magneti c'è proprio niente da dire anche qui le ginocchia sono articolatissimi e fatti molto bene allora questo è il priser di Takeru mettiamo qui e questo è il mighty di Mei la bellissima Mei eccolo qui identico articolazioni identiche al suo al suo controparte maschile eccolo qui i magneti belli potenti eccolo qui ragazzi allora il J-Kin voglio fare un attimo una breve breve racconto di come si forma questo J-Kin allora il J-Kin nasce dalla fusione sia di Takeru che di mighty formando l'uomo magnete allora questi due ragazzi hanno questi poteri diciamo perché Takeru venne colpito da un fulmine insieme alla mamma quando era più ragazzino la mamma morì come al solito e lui divennero questi diciamo questa sorta di potere no e Mei per il bene della scienza il bene del papà che era diciamo il dottore il capo diciamo della base della divina libertà dove venivano lanciati i componenti del J-Kin per il bene dell'umanità si sottopose a esperimenti scientifici diciamo per acquistare anch'essa anch'ella come si dice questi poteri allora tutte e due insieme si formavano si univano si fondevano formando lo spirito angelico l'uomo magnete plus e l'uomo magnete plus e l'uomo donna magnete minus e formavano l'uomo magnete in un solo essere ragazzi e la la loro forza magnetica attirava diciamo i componenti del J-Kin facendo in modo che si univano tutti e formavano questo bel robottone che adesso vi faccio vedere ecco qui ragazzi il nostro J-Kin ancora scomposto e vediamo un po' come si monta ragazzi questa è la parte centrale che si divide in tre parti però io non lo smonto perché è uscito così lo tengo così allora Takeru e Mei quando si univano e formavano l'uomo magnete in un solo essere diventavano questa sorta qui di esagoni le vedete qui sulla parte centrale dell'addome del J-Kin e poi attiravano a sé tutti i componenti i primi componenti che partivano era proprio il busto e l'addome qui si univano così poi partivano le cosce si univano così ecco qui vedete come sono potenti i magneti eccolo qui poi partivano le braccia si agganciavano eccolo qui e poi dal corpo fu riusciva la testa all'interno del busto qui però qui c'è il magnete ecco qui l'uomo magnete in un solo essere il mitico J-Kin il magnetico robot il primo robot ermafrodita ragazzi veramente bellissimo quest'anime version mettiamoci i due robottini qui ed ecco qui il nostro J-Kin della CMS prodotto nel 2008 ragazzi ecco qui il nostro J-Kin pronto a combattere contro gli azzarriti è abbastanza pesante ragazzi faccio fare una piccola carrellata faccio vedere un po' il robot da vicino vediamo un po' se sta luce va bene eccolo qui ragazzi si vede ma si da meglio di niente ecco qua guardate che bello proprio identico e preciso alla sua controparte animata eccolo qui molto particolare come robot molto diverso dagli altri eccolo qui è veramente magnifico ragazzi è articolatissimo perché con i magneti è molto 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 articolato è anche articolato nei gomiti le ginocchia qui le caviglie eh a proposito l'unica cosa che non mi fa impazzire di questo robot sono proprio la parte qui delle gambe che secondo me la CMS l'ha fatte troppo 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 sottili guardate qui nell'anime sono sono sottili rispetto al robot però qui hanno esagerato un po' troppo secondo me poi ragazzi è pieno di metallo le spalle sono in metallo l'anima interna qui del bus all'interno è metallo cosce in metallo gambe in metallo piedi in metallo è veramente molto 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 metalloso il nostro jackie infatti vediamo un po' quanto pesa proprio per vedere per sfizio mettiamo qui sulla bilancia è pesa 226 grammi si vede eccolo qui pesa 226 grammi per un'altezza di vediamo un po' di 17 centimetri 18 centimetri ragazzi non è altissimo però è abbastanza abbastanza pesantino poi ragazzi qui c'è anche la gimmick qui c'è il pugno sparante qui con gli artigli d'acciaio stile Wolverine qui anche qui si spara vediamo un po' senza far perdere niente ecco qui si spara e si aprono anche vedete qui gli artigli d'acciaio il nostro jakey si focalizza che è molto piccolo che eccole qui vedete si vedono anche i circuiti interni anche le mani sono articolate abbastanza articolate come qui ecco qui gli artigli d'acciaio e quando partiva il pugno si chiamavano i pugni taglienti ragazzi ecco qui poi vediamo che sotto al piede c'è ci sono queste lame che si chiamano i questa arma si chiamava piede tagliente ecco 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 sia a destra che a sinistra ecco qui molto molto carino è un bel pezzo da avere in collezione ragazzi io in passato l'ho pagato un bel po' devo dire la verità perché secondo me la cms è fallita anche per questo perché i prezzi erano un po' troppo esagerati per i prodotti che faceva uscire eccolo qui adesso vi faccio vedere un po' di di pose fighe con le armi del nostro robot ecco qui il nostro jking magnetico robot con due le due sue armi ecco qui il priser mighty impugnati ecco guardate che bello poi si può mettere anche in modalità volo che è un po' complicato comunque nel cartone animato il priser e il mighty lo fanno volare così ecco qui che logicamente la figure non può assumere quella posizione però è veramente una figata guardate che bello il nostro jking armato eccolo qua veramente potente adesso vediamo con i vessilli vediamo se riesco ad inserire anche i vessilli si vedo i robottini ecco qui il nostro jking con i vessilli taglienti eccolo qui faccio vedere da vicino ecco qui ragazzi vedete molto facile da montare devo dire la verità però le braccia non rimangono stese in avanti perché è troppo pesante il magnete non riesce a trattenere il peso perciò ci sono quelle due staff che vi ho fatto vedere prima ed eccolo qui adesso vediamo il nostro jking con la lama atomica ecco qui il nostro jking con la lama atomica come vedete ragazzi io aggiunto le due staffe perché veramente le braccia non riescono a stare distese in avanti troppo ma non è un difetto del mio modellino ma è proprio così conosco vari ragazzi che hanno questo modellino qui è proprio fatto proprio così infatti la cms si perdeva in queste cose perciò secondo me non è andata a buon fine però ragazzi se la volete esporre così per forse con le staffe se no vi dovete inventare qualche altra cosa però io ho metto semplicemente senza armi esposto con i due robotini vicino e vai con liscio eccolo qui però come vedete è molto bello ed è fantastico ragazzi adesso passiamo allo step finale con i saluti one two three step finale ragazzi è che dirvi il prodotto per me è veramente magnifico ragazzi se volete acquistarlo io dico che fate bene però ad un prezzo non so sinceramente a che prezzo è salito comunque per gli amanti dei robottoni è un pezzo che non può mancare in collezione e niente ragazzi come al solito vi invito a iscrivervi al canale se volete mi farebbe piacere cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che farò lasciate un like se volete commentate fatemi sapere cosa ne pensate di questo modello se anche voi ce l'avete in collezione c'è anche la pagina facebook del canale Arbo82 se volete venite a iscrivervi anche lì ho anche un canale TikTok con il nome di Arambenjo 1982 e bu ragazzi questa era la mia nuova recensione guardate qui che belli tutte e tre assieme è un modello che non può mancare ragazzi è veramente figo come robot grazie se avete visto il video fino alla fine perché io vi faccio pochi visual vabbè comunque e niente ci vediamo nelle live fatte dall'agora di madmich ragazzi un saluto da me Arbo82 e dal mitico Jackie arrivederci a